Ci siamo sempre buttati sin da subito nell'emergenza perché è il nostro dovere, assolutamente. È una questione di sottolineare come il virus SARS-CoV-2 non faccia la differenza tra un medico specializzando del primo o del secondo anno e un medico con il contratto di lavoro. Siamo amareggiati, siamo rammaricati, siamo disillusi e siamo stanchi. Siamo medici quando siamo utili per fornire forza lavoro nelle strutture sanitarie. Siamo studenti quando veniamo esclusi da riconoscimento del lavoro che stiamo svolgendo. È uno schiaffo la nostra attività quotidiana e il nostro sacrificio. È una dimostrazione di quanto possa essere falsa la retorica degli eroi in corsia. Noi specializzandi, nella maggior parte specializzandi non contrattualizzati, quindi non sottoposti poi a contratti aggiuntivi stipulati con il servizio sanitario regionale, siamo forse la maggior quota di quella silenziosa fanteria che si è prestata come tutti i giorni prima dell'era Covid e come succederà anche al tramonto dell'era Covid al servizio dei pazienti. Ci siamo sempre buttati sin da subito nell'emergenza perché è nostro dovere assolutamente. Non ci siamo mai tirati indietro, eppure la Regione Lazio ha voluto chiarire che l'emolumento bonus non può in alcun modo riguardare i medici specializzandi non contrattualizzati proprio perché il loro contratto di lavoro non è un contratto di lavoro senso stricto. L'11 aprile la Regione ha dichiarato a mezzo stampa che avrebbe dato il contributo anche a noi specializzandi, rivendicandola come una vittoria. C'era scritta una frase molto chiara che venivano inclusi nelle categorie a rischio tutti coloro i quali si trovassero a lavorare in un reparto Covid dedicato e quindi i medici strutturati, medici firmatari di contratto e medici in formazione specialistica. Non era stato specificato, cosa che invece è stata effettuata in una pubblicazione successiva definitiva. Noi specializzanti non assunti sembriamo non essere sottoposti a rischio. Mentre noi specializzanti siamo sempre una figura un po' evanescente e invece vorremmo avere un riconoscimento adeguato e giusto per la figura che siamo perché siamo medici. Noi non abbiamo neanche idea, quantomeno io, dell'ammontare di questo emolumento. Non ci interessa. Ci interessa però che venga riconosciuto lo sforzo, l'impegno, la dignità lavorativa della figura del medico specializzando. Non ci consideriamo degli eroi o degli esseri speciali. Abbiamo semplicemente svolto come sempre il nostro lavoro. Non ci siamo mai sottratti all'attività lavorativa costante che effettuiamo da quando siamo entrati in queste scuole di specializzazione al momento in cui è stata resa nota la pandemia e quindi il fatto che dovessimo anzi moltiplicare il nostro lavoro, amplificarlo e crescere in fretta. Perché comunque abbiamo affiancato i nostri strutturati sin dall'inizio. Siamo stati esposti al rischio di contagio, come loro, e quindi non troviamo differenza, questo è il fatto. È una questione di sottolineare come il virus SARS-CoV-2 non faccia la differenza tra un medico specializzando del primo o del secondo anno e un medico con il contratto di lavoro. Sottolineare come il virus SARS-CoV-2 non faccia la differenza